Faccia allegre, clima disteso e sorriso a 32 denti questa mattina in Sala della Concordia da parte di dirigenza e giocatori dell'Alma e amministrazione comunale. Il motivo è duplice, il Fano come squadra sta attraversando un momento positivo e il bel gioco è tornato a farsi vedere al Mancini, un progetto sportivo condiviso dalla società e dal direttore sportivo che vede al centro all'allenatore sta dando buoni risultati ma anche la presentazione del main sponsor della squadra che campeggerà sulle maglie Granata, il Carnevale di Fano ed il City Brand della città. Lo scopo è quello di mettere insieme per il bene comune la manifestazione regina della città con la prima squadra per portare in giro e promuovere la manifestazione e supportare la compagine sportiva nel suo percorso. Bellissima iniziativa, dobbiamo ringraziare Massimo, la Presidente della Carnevalesca, tutti i collaboratori di Seri perché veramente abbiamo fatto secondo me qualcosa di importante, di carino che sono certo verrà replicato anche in altre città con delle chicche perché ogni città ha la propria e qui c'è questo Carnevale meraviglioso e credo che a mio modesto parere sia giusto valorizzarlo anche attraverso lo sport. Il campionato Pro è un'occasione troppo ghiotta per non coglierla, dice la Presidente dell'Ente Carnevalesca Flora Gianmarioli davanti a tutta la squadra schierata. Vorrà dire che incomincerò a interessarmi di calcio, non è mai troppo tardi, ma oltre al suo interesse alla Presidente e al Consiglio Direttivo sta a cuore la promozione in tutte le città italiane toccate dalla squadra in trasferta del Carnevale più antico e più dolce d'Italia. Cominciamo a capire che fare rete aiuta la città, quindi sono molto soddisfatta di questo, ringrazio di questo l'amministrazione perché dà la possibilità al Carnevale di girare l'Italia insieme alla sua squadra, quindi penso che sia di soddisfazione per tutta la città. L'amministrazione comunale dal canto suo ha, con l'impegno economico di 25.000 euro, reso possibile dall'amministrazione virtuosa dei conti pubblici, realizzato un dubbice scopo, supportare la compagine cittadina ed esportare l'immagine fanese. Stare nel campionato professionisti significa avere molte riprese televisive, che significa girare molte piazze importanti e allora si è pensato di fare questo progetto di promozione e di valorizzazione della nostra città e del Carnevale, che è l'evento maggiormente coinvolgente e soprattutto nel periodo invernale è la manifestazione trainante, ma appartiene alla nostra tradizione e alla nostra cultura.